L'occasione di questo emiciclo speciale, diciamo, dedicato a Maurizio Landini e al Congresso della CGL, è ghiotta per poter dare innanzitutto alcuni annunci. Data la fase storica che stiamo vivendo, ho deciso che l'emiciclo da questa settimana aumenterà di una puntata, perché i temi di politica estera, i temi di politica interna, la campagna elettorale permanente, cui purtroppo stiamo assistendo, e insomma tutto quello che vedete dal Venezuela all'Unione Europea, gli Stati Uniti di Trump, Israele, e tutto quello che ancora emergerà nelle prossime settimane, certamente impone una presenza più massiccia, e quindi da questa settimana l'emiciclo andrà in onda dal lunedì al venerdì. Ma questa puntata riguarda Maurizio Landini e la CGL. Maurizio Landini, come sapete, al Congresso di Bari, che si è svolto dal 22 al 25 della scorsa settimana, è stato eletto segretario generale della Confederazione Generale Italiana del Lavoro. Cosa penso di Landini e di questa scelta? Penso tutto il bene possibile. Penso che la CGL, come ha scritto Norma Rangeri sul manifesto, abbia fatto la cosa giusta. Perché? Perché Landini negli anni si è guadagnato una credibilità e un'autorevolezza di cui oggettivamente altri esponenti dello stesso sindacato non godevano, tra cui anche lo stesso colla con tutto il rispetto, e perché intercetta perfettamente quel bisogno di rinnovamento, di attenzione alla pancia profonda del Paese, alle viscere del Paese, che oggi è necessaria per chiunque voglia ricoprire una carica pubblica. Colla con tutto il rispetto, eletto vice segretario, auguri anche a lui, insieme a Madonna, Gianna Fragassi, auguri a tutti loro ovviamente, non rispondeva a questa esigenza di rinnovamento. Era un personaggio troppo ancorato a quel riformismo emiliano, un po' bersaniano, tenue, troppo moderato per la stagione di battaglia che c'è invece in atto e che la CGL, se vuole avere un futuro, deve assolutamente intercettare. Maurizio Landini sarà in piazza con gli altri sindacati il 9 febbraio, ovviamente seguiremo anche quella manifestazione, ha annunciato già una sfida al governo sui temi del lavoro, del sociale, ma anche e soprattutto su temi centrali, come la resistenza, come la difesa della Costituzione, come la battaglia contro il rassismo. Le prime mosse che ha compiuto sono state andare in un centro per rifugiati a Bari e nella sede dell'Ampi. Quindi ha subito iniziato con azioni concrete, con azioni che testimoniano il ruolo centrale del sindacato. Non ci dimentichiamo che il congresso della CGL si è svolto nei giorni in cui si ricordava il quarantesimo anniversario della scomparsa di Guido Rossa, l'operaio dell'Ital Cedar di Genova che venne assassinato dalle Brigate Rosse 40 anni fa, l'operaio iscritto al PC e alla CGL. Non ci dimentichiamo il ruolo fondamentale che ha giocato la CGL nella storia di questo paese, nella costruzione della base valoriale di questa nazione. Non ci dimentichiamo che la CGL è il sindacato di Giuseppe Di Vittorio, non ci dimentichiamo l'articolo 1. D'altronde la radio della CGL si chiama Radio Articolo 1, l'Italia è una Repubblica Democratica fondata sul lavoro. Landini garantisce in questo momento storico di essere il miglior interprete del ruolo della CGL nella modernità e soprattutto del ruolo di una CGL che deve intercettare i nuovi lavoratori. Perché c'è un problema nella CGL, certamente. Il problema è che rappresenta per gran parte pensionati, il problema è che fatica ad entrare in contatto, in connessione con i giovani, il problema è che non riesce ancora a comprendere le nuove categorie da questo punto di vista. Quindi è ovvio che ci sia bisogno di un sindacato di strada, come ha detto Landini, un sindacato che va da casa per casa e strada per strada, fabbrica per fabbrica, che si occupi anche delle nuove precarietà, delle nuove forme di discriminazione, della disoccupazione, di come sconfiggerla, di come restituire dignità al lavoro mentre il lavoro sta vivendo un cambiamento epocale, di come porre il sindacato nella stagione delle nuove tecnologie e della latente o palese volontà di disintermediazione, quindi di non confronto col sindacato. È un personaggio che può aprire al sindacato una nuova strada, una strada che lo conduca finalmente fuori dalle logiche novecentesche all'interno delle logiche di questo secolo, senza però compiere alcuna rotamazione e senza mancare di rispetto, ripeto, alla storia di un soggetto essenziale, centrale per la nostra democrazia. Ho ricordato Di Vittorio, ma posso ricordare anche Luciano Lama, Bruno Trantin, Sergio Cofferati, Antonio Pizzinato, il ruolo fondamentale che ha avuto la CGL in oltre un secolo della sua storia, il ruolo fondamentale che ha avuto nelle battaglie in difesa dei braccianti e dei lavoratori, degli operai, delle fabbriche, il ruolo fondamentale che ha avuto nella lotta contro il fascismo, contro tutti i fascismi, e oggi nella lotta fondamentale che ha contro le discriminazioni, contro i razzismi, non i razzismi, i razzismi al plurale, perché poi c'è una discriminazione anche nelle fabbriche, il ruolo fondamentale che ha e che avrà nell'integrazione dei lavoratori e degli immigrati che verranno qui desiderosi di lavorare e di comportarsi onestamente. Quindi ha scelto la CGL un uomo antico e moderno al tempo stesso, un uomo che conosce la fabbrica, nato come saldatore, nato in provincia di Reggio Emilia, che conosce la fabbrica, che conosce le sue difficoltà, che non ha mai voluto il sindacato cinghia di trasmissioni di nessun partito e che sarà un soggetto pienamente politico nel rispetto della sua alterità rispetto ai partiti. Quindi è esattamente il profilo che serviva. Landini, la segretaria della CGL, potrà promuovere quella coalizione sociale di cui c'è bisogno, che potrà impegnarsi attivamente in politica mantenendo il proprio ruolo. Farà il sindacalista in modo politico e quello di cui c'è più che mai bisogno, anche per restituire un senso e una dignità al concetto di politica e al concetto stesso di sindacato. Sarà un segretario di valore, sarà un segretario capace di ascoltare, sarà un segretario capace di forsi come interlocutore nei confronti delle buone proposte che sono venute anche dal Movimento 5 Stelle, perché non bisogna essere sempre critici in maniera distruttiva, per esempio sul reddito di cittadinanza, per esempio sui rider e su battaglie e tematiche sociali fondamentali. Sarà un osso durissimo nei confronti di qualsiasi tentativo di violare i diritti dei lavoratori o di imporre regole che discriminino o che non pongano al centro l'essere umano, sia esso un operaio sia esso un migrante. Buon lavoro a Maurizio Landini e complimenti alla CGL.